Al termine della lezione Come medita Egle a cura di Wubi? Al termine della lezione nell'università tutti si alzarono velocemente. Egle si mise in disparte e lasciò che la massa degli studenti scomparisse in fondo al corridoio. Finalmente chiese a Vasile, tu come sei guarito? Il cugino la guardò sorpreso. Come come sono guarito? Come guariscono tutti? Egle capì che aveva abbordato male il suo beneficato. Cambiò la domanda. Voglio dire, quando hai cominciato a sentirti meglio? Dopo qualche giorno che tu eri venuta al paese per trovare la zia? A che ora ti sentivi meglio? Insistette Egle. Per lei era importante. La sera, quando stavo per addormentarmi, disse il cugino, che continuava a non capire. E poi come hai continuato? Piano piano, sempre di sera e poi anche la mattina, quando mi svegliavo. Stavo meglio. Tutto collimava. Vasile riceveva i maggiori benefici della sua meditazione quando Egle meditava, la sera, ma anche di notte, quando lei si svegliava per inviare all'inconscio del cugino la sua influenza a distanza. Inoltre Vasile aveva ricevuto un notevole incremento di guarigione, ogni volta che Egle aveva creato un effetto batteria, grazie agli amici di Facebook che si erano uniti a lei nella meditazione. Grazie a tutti.